Nell'ambito del progetto europeo Erasmus+, l'istituto comprensivo Maria Montessori di Terracina e l'associazione EUTRAC di Terracina, in collaborazione con alcune università che si trovano in Finlandia ed Estonia e varie associazioni italiane, del belgio e finlandesi, hanno avviato nel mese di ottobre scorso il progetto GAS STEM, ovvero migliorare le competenze STEM utilizzando l'arte e minigame. Il progetto sperimentale della durata di due anni e mezzo coinvolgerà studentesse e studenti della scuola secondaria ed insegnanti di tutti i paesi coinvolti. L'obiettivo è di incentivare la motivazione nello studio delle materie scientifiche attraverso l'uso delle opere d'arte per sostenere lo sviluppo creativo negli studenti. Questo progetto è un'iniziativa che parte dal programma Erasmus+, finanziato dall'Agenzia Nazionale Indire. Sono finanziamenti europei che danno la possibilità al settore scuola di fare formazione, di portare prodotti innovativi all'interno del settore istruzione. La Montessori, e sono particolarmente felice per questo, perché è la prima scuola di Terracina che entra in un progetto Erasmus+, e quindi è entrato effettivamente in Europa con un partenariato misto, fatto di università europee, Estone, Belga e anche noi come centro multidisciplinare di ricerca. Il progetto, come dirà il professor Gerosa, sono dei prodotti innovativi a livello educativo, quindi che verranno sperimentati all'interno delle classi. Si tratta di coniugare arte, matematica, ingegneria, tecnologia, rendere le lezioni estremamente gioiose e chiaramente estremamente motivazionali, con un nuovo modo di fare scuola. Per quanto riguarda noi, proprio come scuola, abbiamo un ritorno enorme sui docenti, perché faranno un corso di formazione sulle nuove tecnologie, ci sarà sui ragazzi un ritorno, e questo fino al 2021, quindi abbiamo parecchi anni in cui si lavorerà su questo, si potenzierà tutta la parte tecnologica e tutta la parte riguardante la matematica, la logica e chiaramente l'arte.